salve a tutti no non sono in ufficio è abbastanza palese sono a casa mia e mi sono ritagliato mezz'oretta di tempo per registrare questo video visto che negli ultimi giorni ci sono state tantissime novità inerenti in mondo dell'eco bonus abbiamo una serie di mandamenti che sono stati presentati per modificare il decreto e abbiamo anche delle date su quando il decreto verrà discusso infine abbiamo degli aggiornamenti fondamentali per tutto quello che riguarda la burocrazia pre intervento ossia quella fase fondamentale per capire se gli interventi che hai in mente di realizzare possono farti raggiungere il 110 per cento c'è tanta carne al fuoco c'è tanta ciccia quindi non perdiamo altro tempo metti mi piace e cominciamo non voglio essere ripetitivo ma prima di partire con tutti quelli che sono gli aggiornamenti dedicati all'eco bonus è fondamentale fare un brevissimo escursus legislativo il famosissimo decreto rilancio che è stato approvato è un decreto legge e come tale deve essere ricompartito in legge entro 60 giorni altrimenti perde di validità per questo continuo a sottolineare che non è ancora venuto il momento né di pagare professionisti per fare delle analisi né tanto meno per firmare contratti e assolutamente non è tempo di versare capare sono stato contattato da tantissimi di voi che grazie ai miei video sono rinsaliti per un attimo perché perché avevano di fronte già delle aziende che promettevano il 110 e chiedevano già capare di 2 3 4 5 mila euro soldi che ad oggi sono buttati nel cesso soldi che ad oggi sono buttati nel cesso perché perché come detto non c'è ancora la legge definitiva ci sono tantissimi mandamenti tantissime modifiche che possono far crollare da momento all'altro i tuoi progetti e i professionisti quelli seri non hanno ancora le basi per potersi esporre a dirti sì questo intervento rientra al 110 no questo intervento non rientra lo so mi scoccia tantissimo essere ripetitivo ma ho ricevuto davvero 30 40 mail di persone che mi hanno chiesto conferme hanno voluto dei chiarimenti perché avevano già versato capare o stavano per versare capare a famose aziende di impianti fotovoltaici che tra l'altro non è un intervento trainante che promettevano il 110 come se fosse cosa fatta in questo video ti dimostrerò quanto affermato ossia che la legge non è ancora stata approvata che la legge può essere ancora modificata e che non abbiamo ancora le informazioni per esporci partiamo subito rispondendo a una delle domande fondamentali che ci possono già dare un'idea delle tempistiche di questo decreto come puoi vedere dalla tabella che ti lascia a schermo i lavori per la discussione del decreto e la sua conversione in legge sono previsti per il 25 26 giugno quindi parliamo in ogni caso di fine giugno questa è la discussione in parlamento da cui deve poi passare in senato entro il 18 luglio quindi possiamo ipotizzare i primi di luglio e deve essere poi confermate convertite in legge quasi sicuramente basandomi su quello che è stato l'andamento politico degli ultimi mesi non vi sarà una discussione parlamentare accesa ed approfondita ma verranno integrati alcuni mandamenti che vedremo nella seconda parte di questo video e probabilmente verrà posta la questione di fiducia così da evitare discussioni modifiche e un allungamento dei tempi notevole se la legge viene discussa a fine giugno i primi di luglio nel senato dovrà essere approvata e quando verrà pubblicata in gazzetta ufficiale diventerà ufficialmente legge e da lì potremo iniziare a fare dei ragionamenti più precisi siamo ai primi di giugno non ha senso esporsi troppo su una legge che deve essere ancora approvata lo so in tantissimi di voi siete in una condizione particolare di base nel decreto abbiamo due edifici ben caratterizzati l'edificio unifamiliare e il condominio con riscaldamento centralizzato tutti gli altri edifici nel mezzo quindi la villetta schiera l'abitazione bifamiliare l'unità immobiliare autonoma all'interno di un condominio non vengono presi in considerazione non perché non verranno presi in considerazione questo non possiamo saperlo ma perché non abbiamo ancora delle definizioni precise su quali sono le tipologie di edificio su quali unità immobiliare si potrà intervenire su come verrà fatto il calcolo delle due classi energetiche perché come ti spiegherò in un prossimo video la certificazione energetica solitamente viene riferita all'unità immobiliare ma nella legge si parla di aumento di due classi energetiche dell'edificio non dell'unità immobiliare per questo se sei in una bifamiliare per esempio la certificazione energetica viene fatta sulla tua unità immobiliare ma la legge da quello che sembra chiede l'aumento di due classi energetiche dell'intero edificio quindi dell'insieme delle due unità immobiliare capisci che la situazione è sicuramente complessa una volta che verrà ufficialmente approvata allora l'agenzia delle entrate l'enea e il mise quindi il ministero dello sviluppo economico potranno esporsi con le direttive con i decreti attuativi con le linee guida la legge da dei principi poi nella realtà come vengono applicati ogni ente di riferimento quindi enea per la tipologia di interventi su chi ne ha diritto l'agenzia delle entrate per tutta la parte fiscale della cessione del credito quello che interessa nel concreto dovranno dare delle direttive delle linee guida precise cosicché aziende studi termotecnici e banche istituti bancari possano organizzarsi per offrire il servizio necessario non chiedete adesso alla banca se può fare la cessione del credito perché la banca non ce la legge non ha le linee guide e quindi state chiedendo una cosa inutile tutto questo iter secondo me porterà a risposte chiare certe per i primi di settembre lo so è un tantissimo tempo soprattutto se sei lì lì che stai per realizzare i lavori e sei intenzionato a fare delle modifiche importanti anche perché fare un cappotto rifare il tetto una ristrutturazione importante partire a settembre può essere complicato proprio perché poi si va nella brutta stagione d'inverno solitamente non si va a rifare il tetto così come non si cambia la calda d'inverno no ma abbiamo una buona notizia per una volta ossia che ci sono degli emandamenti che possono cambiare un pochettino le carte in tavola vediamo quindi quali sono le modifiche proposte gli emandamenti presentati dai vari parlamentari sanatori per modificare il decreto uno degli emandamenti principali che è stato presentato è la richiesta di proroga fino al 2022 ok nei casi più complessi più particolare bisognerà aspettare un paio di mesi per avere indicazioni e risposte chiare ma l'idea di prorogare di un altro anno fino a fine del 2022 questo decreto questi incentivi può essere sicuramente d'aiuto vuoi perché con la fretta le cose vengono fatte male vuoi anche perché da un lato le tempistiche più allungate fanno calare un pochettino alla domanda adesso c'è tantissima domanda e pochissima offerta e infatti quello è il rischio che tantissime aziende che non sono strutturate che non hanno esperienza si buttano nel mondo delle riqualificazioni energetiche solo per far business nella prova tutte le aziende che fino all'altro ieri facevano impianti fotovoltaici impianti di climatizzazione e dall'oggi al domani sono diventate aziende esperte di sanificazione dei locali ci sono aziende che sanificano e purificano i locali si lo fanno da anni aziende nate dall'oggi al domani con sistemi all'ozono all'acqua di rose sono palesemente un esempio di come si fiuta il business ci si converte subito per sfruttare il business tantissima domanda pochissima offerta tantissime conversioni per fiutare il business vuol dire tantissimi impianti realizzati col culo altra modifica proposta di fondamentale importanza è quella dell'estensione dell'eco bonus a tutte le seconde case escludendo quelle di lusso l'ambito delle seconde case è stato uno degli ambiti più incasinati proprio perché si è partiti con solo le prime case poi c'è stata l'aggiunta sì le seconde case ma solo in condominio adesso le mandamento le mandamento ricordiamo è una proposta di modifica non è una modifica effettiva confermata è quello di estendere a tutte le seconde case non di lusso quindi se fino a un mese fa le seconde case no poi le seconde case sì ma in condominio adesso sembra che l'idea è quella di estendere anche le seconde case come detto è un'idea quindi se avete la seconda casa al mare se avete la seconda casa in montagna e non è considerata lì di lusso non partite già chiedendo preventivi e fermando a conti mi pare ovvio altro mandamento è sempre anche qui frutto di una terminologia poco chiara e la richiesta di estensione degli interventi di sostituzione di pompa di calore a tutti gli impianti di riscaldamento raffrescamento e acqua calda sanitaria non strettamente collegate al condominio e qui si rientra nel discorso bifamiliare villetta schiera appartamento in condominio eccetera eccetera apro parentesi quando si parla di sostituzione di impianti di climatizzazione estiva e invernale non significa secondo me ristrutturare tutto l'impianto quindi l'impianto a pavimento i termosifoni cambiare i tubi no questa secondo me è un'incomprensione frutto di un'intervista su un giornale perché fino all'altro ieri tutte le detrazioni al 65 per cento parlavano di sostituzione di impianti di riscaldamento e nessuno si è mai fatto l'idea di dover ristrutturare casa cambiare per forza i termosifoni chiusa parentesi altri mandamenti riguardano l'ampliamento della platea dei beneficiari quindi anche piccole aziende albergatori enti non commerciali del terzo settore eccetera eccetera quindi allarghiamo un pochettino la platea o apriamo le porte a più edifici possibili alcuni senatori si sono anche esposti dicendo che avrebbero richiesto le mandamento anche al solo impianto fotovoltaico senza l'abbinamento ai due interventi trainanti ossia l'isolamento delle superfici opache disperdenti per oltre il 25 per cento o la sostituzione per una billetta indipendente del generatore con una pompa di calore questa è solamente una proposta che diventi poi realtà non si può sapere ci ho detto ad oggi il fotovoltaico è detraibile al 110 per cento solamente se in abbinamento a uno dei due interventi trainanti ho già visto in giro tantissime pubblicità qua non voglio fare nomi per evitare querele e denunce di aziende che ti dicono monta il fotovoltaico ce l'hai il 110 no non basta il fotovoltaico devi avere due interventi trainanti e generare due classi energetiche ad oggi oppure quelli più furbi monta il fotovoltaico gratuitamente e se abbini il cappotto o la pompa di calore anche il cappotto e la pompa di calore potrai portare al 110 furbi complimenti per la furbizia ma no cappotto se fai il cappotto oltre il 25 per cento o se cambi la caldaia con una pompa di calore e superi le due classi energetiche allora anche il fotovoltaico ma non è che si parte dal fotovoltaico e si fa il resto giusto altre modifiche di discussione sono legate anche al tempo della detrazione fiscale perché come ho già spiegato in un vecchio video abbreviare la detrazione fiscale da 10 a 5 anni può non essere una cosa positiva per tutte le persone che pagano poco IRPEF una delle domande più soventi che ricevo a cui però non posso ancora rispondere in maniera chiara ed esaustiva è legata al fatto del ma se io volessi la detrazione al 50 per cento in 10 anni posso ad oggi dal decreto sembra di no perché il decreto applica una modifica c'è una riduzione da 10 anni a 5 anni non si sa se è una cosa facoltativa oppure obbligatoria se le mandamento ossia la richiesta di modifica della legge chiede di poter allungare da 5 a 10 anni qualora il soggetto non avesse capienza IRPEF allora evidentemente ad oggi non si può fare infine una delle modifiche più importanti che voglio approfondire con attenzione è dedicata ai progettisti e professionisti all'interno del decreto legge si evidenza in maniera chiara che il professionista il progettista che diventa responsabile delle certificazioni pre e post opera diventa responsabile e di conseguenza si invitano queste figure professionali questi tecnici abilitati alla stipula di un'assicurazione proporzionale alla quantità di interventi e di pratiche effettuate questo perché perché gran parte della responsabilità veniva caricata sulle spalle del progettista dello studio tecnico del professionista responsabile dei lavori che sia giusto o sbagliato poco importa fatto sta che se ho tante responsabilità il mio prezzo cresce di conseguenza e come detto in altri video è fondamentale fare un'analisi pre opera cioè capire in che stato è l'edificio ipotizzare gli interventi e valutare se con quegli interventi sarò in grado di aumentare di due classi energetiche questo calcolo preliminare ad oggi è un calcolo preliminare che ha un costo o meglio ad oggi un calcolo preliminare che non ha senso fare perché non abbiamo le indicazioni di come fare in maniera precisa questi calcoli su le condizioni più particolari bifamiliare biletta schiare eccetera però in ogni caso qualora ci fossero i chiarimenti questa analisi preliminare da parte di un tecnico che si prende poi la responsabilità qualora i lavori vengano effettuati ha un costo è un costo importante per questo uno degli mandamenti più richiesti è proprio relativo a questa progettazione preliminare ossia la possibilità di portare in detrazione questa progettazione separatamente dall'eco bonus separatamente dall'ottenimento dell'eco bonus io posso investire 4 500 600 euro per fare un'analisi preliminare da parte di un progettista di uno studio tecnico questo progettista questo studio tecnico va a identificare gli interventi necessari per superare le due classi e quindi ottenere il 110 ma se io non sono nelle condizioni o non ho la volontà di proseguire questo percorso che ricordiamolo non è un percorso semplice non è un percorso per tutti ed è un percorso che comporta dei disagi soprattutto a livello domestico se cambio la caldaia devo stare un paio di giorni senza acqua calda senza riscaldamento se realizzo un cappotto devo andare a intervenire anche con sistemi di ventilazione meccanica devo andare a spostare le soglie o dei ponteggi attorno a casa quindi interventi indubbiamente invasivi è fondamentale avere la possibilità di detrarre queste spese sostenute indipendentemente dalla realizzazione o meno dei lavori questa è una modifica molto importante per tutti quelli che riguardano i studi di progettazione tra l'altro se sei uno studio di progettazione che si occupa di certificazione energetica di legge 10 di calcoli termotecnici e ti può interessare collaborare fammi un fischio trovi tutti i link nei commenti ed abbatterebbe quella quota di ingresso che ti ho descritto nell'ultimo video quando parlavo di questo casino dell'eco bonus come puoi vedere abbiamo descritto tantissime modifiche che devono essere confermate a livello legislativo e queste conferme potrebbero realisticamente essere concrete verso fine giugno i primi di luglio e quindi diventare attuative quindi avere le linee guida concrete da parte di tutti gli enti dedicati per fine luglio agosto poi ci ferie poi l'enea deve rispondere ai casi particolari quindi ne parliamo praticamente a settembre se da un lato abbiamo questa notizia negativa dall'altro abbiamo delle modifiche comunque importanti che vanno incontro al cliente ossia l'ampliamento della platea dei beneficiari il prolungamento degli incentivi fino a fine 2022 e la possibilità di detrarre l'analisi preliminare di un termotecnico attenzione due cose questi mandamenti non sono ancora legge non è ancora confermato e dovrà diventare tutta legge mi scoccio ripeterlo ma non vorrei mai che passasse il messaggio che questi mandamenti siano modifiche effettive non lo sono secondo l'analisi di un termotecnico non è sinonimo di successo posso realizzare gli interventi miglioro l'edificio di due classi ottengo 110 cedo il credito a un'azienda e non investo un euro ma da fine lavori in poi tutto quello che rimane è sulle tue tasche e sulla tua pelle quindi se fai un cappotto lo fai di fretta lo fai male infiltrazioni muffe condense rimangono a casa tua se monti una pompa di calore dimensionata alla belle meglio senza un calcolo preciso rischi di stare al freddo di consumare un patrimonio e di rimpiangere gli interventi che hai realizzato ok hai fatto tutto gratis ma se dopo c'hai la muffa in casa stai al freddo spendi più di prima ti trovi nella merda perché ok aver fatto i lavori gratis ma i lavori devono essere sempre finalizzati a un miglioramento della situazione di partenza vuoi a livello economico risparmiando vuoi a livello termico a livello di comfort migliorando il benessere quindi non fatevi prendere dalla foga di realizzare gli interventi gratis perché il rischio di scottarsi è dietro l'angolo nei prossimi giorni vedrò di montare alcuni video che ho registrato girando l'italia in queste ultime settimane e pensavo di realizzare un video di approfondimento di approfondimento sul fotovoltaico perché non sempre può essere vantaggioso valutare fotovoltaico in abbigliamento alla pompa di calore con il 110 perché si perde lo scambio sul posto quindi volevo fare una simulazione pratica per darti gli strumenti per capire se per casa tua può avere senso o meno per non perderti questi ed altri contenuti iscriviti al canale attiva la campanellina così da ricevere tutte le notifiche naviga all'interno del canale se mi conosci da poche settimane così da recuperare tantissimi video dedicati alle caldaia pellet alle caldaia legna alle pompe di calore al fotovoltaico ai climatizzatori e alle batterie di accumulo quindi a tutti i prodotti che ruotano attorno al mondo del risparmio energetico se vuoi seguirmi in giro per l'italia seguimi anche su instagram le storie instagram facebook gruppo facebook per confrontarti e niente noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ne